Ben trovati a tutti i nostri telespettatori con il nostro appuntamento con Comune Informa. Con noi in studio il sindaco Pietro Tidei. Buonasera. Buonasera. Parliamo immediatamente di un tema di questi giorni, i patti territoriali. L'ex sindaco Giovanni Moscherini nei giorni scorsi ha chiesto al sindaco Pietro Tidei di velocizzare le pratiche per avviare questi patti. Intanto in che cosa consistono? Ma io forse l'ex sindaco Moscherini o non sta bene o ha perso la memoria. Perché basta pensare che i patti territoriali sono un'invenzione dell'amministrazione Tidei, che era il villaggio del Fanciullo, il consorzio Olivieri e con me sono partiti. Abbiamo fatti i progetti, abbiamo trovato le banche, abbiamo trovato i finanziamenti, abbiamo trovato praticamente tutto quello che era possibile. Poi sono andato a fare il deputato, per 12 anni i patti sono morti. Il ex sindaco Moscherini per 5 anni ha fatto silenzio, non ha saputo attizzare, come dice lui, niente. La cosa che avrebbe dovuto fare era trovare una conciliazione tra i due contendenti, come probabilmente trovo io, indipendentemente dal ricorso, perché ci saranno altri ricorsi, ricorsi ancora. E quindi attivare questi patti. Questi patti come io li ho iniziati, io li finirò, è la stessa cosa delle termine, io li ho iniziati e li finisco. Mi pare di capire che il consigliere Moscherini finora abbia fatto 5 anni di chiacchiere sui patti territoriali e la cosa incredibile dice a me, si spicci il sindaco di Dea, io mi spiccio. Ma si doveva spicci a lui perché dopo 5 anni non ha fatto nulla, neanche una pietra ha messo in 5 anni, dice si spicci il sindaco di Dea. Il sindaco di Dea è bello che è spicciato, i patti li ho inventati, adesso li riprenderò come li ho lasciati da 12 anni fa e quindi li riporterò avanti. Ma sono centinaia di posti di lavoro e non migliaia, sono centinaia di posti di lavoro che verranno attivati sicuramente, ma senza che la vecchia amministrazione ci abbia messo niente, ha perso 5 anni di tempo, solo in chiacchiere e tutto e basta. Quindi i patti territoriali sono un grosso progetto che inventiamo noi, sia per il villaggio del Fanciulo che partirà anche quello, sia Consorzio Olivieri. Seguiti poi dal Pruste che era piano di qualificazione urbana e sviluppo sostenibile, che riguardava 93 comuni e che dobbiamo dire che dopo la mia uscita dall'amministrazione comunale sono finiti. Tant'è che addirittura l'architetto Correnti mi comunicava l'altro giorno che addirittura la sede del Pruste è stata trasferita a Viterbo quando il Pruste ce lo siamo inventati noi e la sede stava a Civia Vecchia. La totale inattività di quell'amministrazione precedente di fatto ha provocato che ci scipassero persone alla sede. Adesso la riporteremo a Civia Vecchia perché il Pruste l'ho ripreso in mano, io riporteremo la sede a Civia Vecchia e attiveremo i progetti. Parlando sempre di progetti da attivare, di grandi possibilità a livello occupazionale di lavoro per i cittadini di Civia Vecchia, abbiamo in questi giorni anche la questione delle terme. Ultimamente lei, sindaco, ha incontrato anche i responsabili, alcuni rappresentanti della ditta Cantus per cercare di fare chiarezza finalmente su quello che è il progetto termale. È lo stesso film di quello precedente. Quando ero sindaco abbiamo inventato le terme, abbiamo chiesto e ottenuto i finanziamenti per i puzzi, abbiamo ristrutturato la figoncella che abbiamo trovato come 2000 anni fa, l'abbiamo ristrutturata, l'abbiamo allestita, abbiamo migliorato la balneabilità. La balneabilità della figoncella, abbiamo soprattutto interrato gli elettrodotti con contributi comunitari e alla fine avevamo cominciato a fare l'impianto termale. L'albergo era quasi finito, l'impianto termale avevamo preso i finanziamenti dall'Europa, andato via io è finita la storia. Sono passati 12 anni, l'albergo è lì, come l'avevo lasciato io, non è stato fatto nulla, assolutamente nulla, sono stati fatti proclami, 6 mila posti, 7 mila posti, tutta questa roba. La verità è che non si è mosso un sasso, dopodiché noi abbiamo chiamato Sarotel e gli abbiamo detto che la procedura è sbagliata, ma non perché la diciamo noi, è una procedura fedifraga, perché ti hanno attribuito a trattativa privata la cosa che andava in gara pubblica. Non lo diciamo noi, lo dice la Regione, lo dice la Procura, lo dicono praticamente tutti, che cioè, siccome è un bene pubblico le termine, bisogna fare la gara come prevede la legge, è una gara europea. Abbiamo dimostrato alla Sarotel che la procedura che avevano fatto non solo era sbagliata, ma era una procedura che li avrebbe portati sicuramente sotto il diritto penale, perché certamente una gara fasulla ha una rilevanza penale. E gli abbiamo detto, se voi volete che per altri dieci anni state così, insistete su questa strada, se viceversa pensate come pensiamo noi, come pensa la Regione e come pensano molti altri, che quella gara era non impostata male, ma era erronea, era sbagliata, era fedifraga, era una gara che tendeva a privilegiare uno a danno di altri, se è un terreno privato uno fa quello che gli pare. Ma siccome lì ci sono le termine pubbliche sul terreno comunale, vanno fatte le gare, quindi rifacciamo la gara, parteciperà la Sarotel e parteciperanno altri, siccome la Sarotel sicuramente ha tutto il comparto termale dietro e quindi è proprietaria di quelle aree, è probabile che abbia un interesse maggiore degli altri che non soltanto il comparto pubblico. Dopodiché si fa la gara, chi vince vince, chi vince realiserà le termine. Ovviamente noi possiamo pensare già sin ora che la Sarotel, essendo prevedata tutto il comparto termale, ha certamente più possibilità di altri, ma questo però lo dirà la gara, l'esito della gara, chi vince in una gara trasparente, pubblica ed europea si agisicherà l'apparto delle termine. E queste sono le termine pubbliche, poi il comparto termale è un'altra cosa, il golf, tutte queste cose noi siamo d'accordo nel sbroccare il comparto termale, ma le termine vere e proprie sono termine pubbliche che vanno messe in gara, sul terreno pubblico e quindi come tale bisogna fare una gara che non è stata mai fatta. Quindi io ho iniziato le terme e io le terme le finirò. Io ho iniziato il patto territoriale e il patto territoriale lo fermeremo. Abbiamo assistito a 5 anni di sperpero del danaro pubblico, abbiamo assistito che ci hanno lasciato 34 milioni e adesso avremo un dibattito in Consiglio Comunale, 34 milioni di debito, di debito, come accertato da Donucci e dalla Deloitte, che noi adesso rischiamo di saltare in aria con tutti i debiti che abbiamo per colpa di chi ci ha amministrato fino a oggi e si è vantato di fare che cosa? 4 rotatori avendo preso 60 milioni dall'Enel, 60 milioni dall'Enel e non sa nessuno questi 60 milioni dove sono andati a finire, forse qualcuno glielo chiederà e mi auguro presto. Parlando proprio di Enel, a che punto sono gli incontri con i rappresentanti di Enel? Si era parlato già in una delle ultime conferenze dei sindaci quest'estate della volontà sua, sindaco, di scrivere un'ordinanza per la chiusura della centrale Enel in quanto non stava lavorando seguendo le prescrizioni imposte. Esattamente, noi adesso abbiamo interrotto qualsiasi rapporto con l'Enel, con l'Enel non intendiamo più confrontarci, abbiamo viceversa attivato il confronto con l'Enel, l'unica sede competente che è l'AIA, cioè il Ministero dell'Ambiente, dove si all'ISPRA in modo particolare, dove lì c'è in discussione in questi giorni l'autorizzazione integrata ambientale, cioè la continuazione dell'esercizio dell'Enel dipende dall'autorizzazione che verrà data in sede ministeriale. Ci siamo confrontati, in quella sede abbiamo fatto rilevare le criticità che ci sono nell'esercizio della centrale, abbiamo fatto rilevare le inadempienze dell'Enel, adesso cercheremo in quella sede di imporre le prescrizioni, se l'Enel accetterà le prescrizioni che sono quelle che abbattono decisamente i livelli di inquinamento e avranno l'autorizzazione integrata ambientale, ci confronteremo con l'Enel su un altro terreno che è quello delle compensazioni ambientali, come previsto nelle convenzioni precedenti, che non sono state mai attuate perché gli impegni che l'Enel aveva assunto nelle precedenti convenzioni non sono state mantenute la maggior parte degli impegni, richiameremo l'Enel e gli diremo queste sono le convenzioni, queste sono le cose su cui ti eri impegnato, il fotovoltaico, l'eolico, il teleriscaldamento, il bosco, il porticciolo, il campus, tutta una serie di questioni che sono scritte in convenzione ma che nessuno ha mai obbligato l'Enel ad adempiere. L'università, dopodiché l'osservatorio ambientale che dovrebbe essere un osservatorio ambientale diverso da quello attuale perché un osservatore mangia soldi che non serve a niente e allora su questo terreno noi andremo all'Enel a dire l'autorizzazione ambientale ha ottenuto bene, adesso c'è il campo delle compensazioni ambientali, però intanto per noi la prima cosa è l'ambiente, è l'inquinamento perché ci sono delle malattie rarissime che sono riscontrate nei casi acivecchi, perché adesso noi faremo fare uno studio epidemiologico finanziato dall'osservatorio ambientale per mettere in evidenza effettivamente lo stato di salute dei civili e chiese del territorio perché è quello a cui ci dobbiamo attenere insieme al registro dei tumori perché riteniamo che è la prima cosa che noi dobbiamo valutare, la salute dei nostri cittadini perché noi abbiamo i figli, abbiamo i nipoti e in questa città vogliamo che vivano tranquilli, quello che ci dice l'Enel non ci fidiamo, quello che ci dice il Ministero dell'Ambiente non ci fidiamo, quello che ci dicono in altre sede non ci fidiamo, adesso affideremo all'ISPRA o affideremo a qualche istituto specializzato, altamente specializzato, l'osservatorio epidemiologico nazionale e su quello noi ci atterremo scrupulosamente a quello che ci dicono. Io mi auguro francamente che dallo studio epidemiologico non venga fuori niente, ma se dovesse venire a fare qualche cosa come temo, probabilmente la questione cambia. Cambia nel senso che non ci sarà più nemmeno bisogno di aspettare le autorizzazioni? Certo, non ci sarà bisogno di aspettare nulla perché se noi sappiamo che questa centrale ha prodotto nel corso degli anni un inquinamento tale che ha prodotto queste anomalie, queste malattie, allora le questione è altro che ilva. Però questo noi lo vedremo, lo verificheremo con gli studi medici epidemiologici che ci dicono con certezza che cosa ha prodotto la centrale in questi anni e che cosa rischia di produrla adesso. E parlando sempre di lavoro e occupazione, in questi giorni i dipendenti dell'interporto di CPL stanno protestando e manifestando davanti ai cancelli della ditta in segno di protesta per il mancato pagamento degli stipendi e per il futuro incerto che attende l'interporto e quindi anche i loro posti di lavoro. E fanno bene a protestare, se fossi stato loro non avrei protestato oggi, probabilmente avrei protestato ieri perché noi con i soldi pubblici dovevamo la maggioranza di quella società perché l'interporto è stato inventato da noi, dalla mia amministrazione, abbiamo preso finanziamenti europei, abbiamo realizzato i capannoni, abbiamo realizzato infrastrutture, abbiamo fatto un interporto modello. In questo interporto sono anni che non viene stoccato un chilo di merci, un chilo di merci è stata esclusivamente una scatola vuota, un mangiasoldi che probabilmente è servito a qualcuno per fare soldi, non è servito a nessuno per dare occupazione perché è stata un'occupazione finta quella, nel senso che molti lavoratori purtroppo stanno lì senza fare niente o facendo poco, l'abbiamo riempita adesso soltanto con un po' di merce conade, ma per il resto lì dentro non è passata un chilo di merci. Come si fa a fare un interporto e non farlo lavorare, nonostante le potenzialità che ha? Evidentemente c'è stato un difetto del management, un disinteresse o forse una scelta precisa, quella che è comunque di spillare soldi. Nel frattempo che è successo? Il comune che aveva la maggioranza non c'è più niente dentro l'interporto, si è perso tutto il capitale sociale grazie agli aumenti, non solo, ma aveva membri di consiglio di amministrazione, non c'è più niente lì dentro, ma addirittura debiti. Come si fa un comune che ha la maggioranza lì dentro, che addirittura non c'è più niente perché gli hanno soffiato, gli hanno rubato tutto il capitale sociale, adesso persino abbia debiti nei confronti degli interporti e questi debiti a chi li si vorrebbe far pagare? Addirittura al comune con i fondi cibi, a seguito di una transazione che è stata fatta ma non poteva essere fatta con i fondi cibi perché il cibi ci dice che quei soldi non possono essere dati all'interporto perché i soldi erano dati al comune per fare l'infrastruttura. L'infrastruttura è la gara doveva farla il comune, invece l'ha fatta evidentemente il responsabile dell'interporto, cioè non ha fatto una gara, ha fatto dei lavori e quindi lì si tratta di capire se il lavoro fatto di un privato può essere equivalente alla gara che fa il comune, mi pare di nocchi e croce, siccome io ho detto e scritto alla Cipe la situazione è questa, siccome ci sono 6 milioni del Cipe, meno 200 milioni che 200 mila Euro che abbiamo dato per pagare gli stimenti allora lo farai, se il Cipe ci dice che gli spettano non starò un minuto in più con quei soldi e li daremo sicuramente all'interporto, anche se dobbiamo stare attenti perché se gli diamo 6 milioni di Euro quelli si incassano tutti e gli operai dopo due mesi rimangono un'altra volta sull'asse, quindi faremo in modo che gli operai percepiscano questi tempi o per più anni se dovessero effettivamente servire per questo. Ma se il Cipe ci dice che i soldi non possono essere dati perché commettete un abuso, anzi un reato, io non credo che possa essere io disponibile a fare un reato, a commettere un reato per chi? Per un soggetto, per un qualcuno che ha mal gestito, ha gestito male e probabilmente quei soldi sicuramente hanno fatto una brutta fine, erano soldi pubblici quelli, non erano soldi di un privato. E in quest'ultimo caso, nel peggiore dei casi, il Comune potrebbe intervenire cercando di studiare un piano B per non mandare a casa i lavoratori? Un piano B ritengo che intanto se ne debba andare chi ha provocato questo disastro, mi pare chiaro, no, se in un'azienda uno provoca un disastro, perché deve rimanere lì ancora a prendere soldi? Ne prende atto e se ne va, una volta che se ne è andato vedremo un attimo chi ci sarà e siccome è probabile che ci possa essere qualcun altro, quantomeno uno che produce lavoro lì dentro, se c'è qualcuno che produce lavoro, abbiamo un capitale enorme che sono costati soldi alla pubblica amministrazione, non vedo per quale motivo lì non debba passare quella merce che poi dà lavoro alla gente, se la gente sta lì, poveracce, non sanno cosa fare o fanno poco, ma è chiaro che quell'azienda sarà sempre in perdita, perché se non ci sono le entrate ci saranno solo le uscite, allora io credo che forse in questi 5 anni qualcuno si sarebbe dovuto accorgere di questo, ma siccome questo qualcuno probabilmente stava a gazzimme con qualcun altro, è preferito non accorgersene e quindi oggi purtroppo tocca a noi come tocca su HCS, come tocca sulla variante 21, come tocca sul consorzio di vivere, come tocca su tutti i debiti che abbiamo, come tocca su tutti quelli che dovranno essere licenziati o messi in cassa integrazione, che sarà una macelleria sociale e che noi stiamo tentando di salvare avendo ereditato un disastro totale, uno sperpero di soldi pubblici che nessuno sa dove sono andati e ripeto, io mi auguro veramente che qualcuno cominci a pensare a ficcare il naso per capire dove tutti questi milioni di Euro siano finiti. E per cercare di capire dove siano finiti alcuni soldi, in questo caso parliamo dei 32 milioni di Euro di deficit di HCS, ha già annunciato più volte nei giorni scorsi di voler ricorrere al Tribunale e di presentare tutti i libri in Tribunale, una scelta che l'opposizione non ha accettato, dicendo anziché presentare i libri in Tribunale si parlasse in Consiglio Comunale di quanto sta accadendo. Infatti abbiamo convocato un Consiglio Comunale su questo e che cosa signora parlare in Consiglio Comunale? Quando il bilancio del 2011, il collegio dei revisori dei conti, mi dice che il bilancio non si può approvare, quindi sono loro che mi dicono che io che sono l'azionista totale del 100% non posso approvare il bilancio, tu che fai? Te lo dicono loro che non lo puoi approvare, perché non c'è più continuità aziendale, perché si sono mangiati il capitale, è un bilancio che c'è 34 milioni di debiti complessivi e che perde 6 milioni e 600 mila Euro l'anno, i sindaci mi dicono attento sindaco, non approvare il bilancio perché diversamente vai in galera, che cosa faresti tu? Non approvi il bilancio e hai due possibilità, o ricapitalizzarlo, Deloitte e Tonucci ci dicono che non è possibile ricapitalizzare, prima perché non ci sono i soldi e in secondo luogo perché questi soldi verrebbero buttati in un pozzo senza fondo, non servirebbero a niente, perché se ricapitalizzi un'azienda che questa continua a perdere, è evidente che non serva a niente, allora l'unica cosa che hai è quella di portare i libri in tribunale, fortunatamente portando i libri in tribunale, oggi con il decreto sviluppo viene data la possibilità con la modifica della legge fallimentare di chiedere al Presidente del Tribunale un tempo che va da 60 a 120 giorni per presentare un piano industriale, allora io non potendo approvare il bilancio, perché non posso approvarlo perché i sindaci mi dicono che non posso approvarlo, non potendo ricapitalizzare l'unica cosa che posso fare è portare i libri in tribunale, avrei potuto dire porto i libri in tribunale, mi sto fermo, finisce la storia, la società va in liquidazione, gli operai vengono licenziati, la colpa non è mia, ma di chi ha prodotto questo danno che ne pagherà dinanzi alla Corte dei Conti sicuramente le conseguenze contabili, amministrative e probabilmente penali, licenziando ovviamente quei dirigenti che sono stati la causa prima di questo sfascio e mi sarei potuto lavare le mani, siccome dietro questo fatto però ci sono centinaia di lavoratori che rischiano il proprio posto di lavoro, a questo punto che cosa ho fatto? Porterò entro il 31 i libri in tribunale, presenterò un bilancio vero, non quello falso presentato entro il 2011, perché il bilancio vero sarà quello che comporta più perdite di quelle che erano, perché avevano nascosto le perdite come se nessuno se ne accorgesse, siccome sono venuti fuori, ci arrivano ogni giorno decreti ingiuntivi, ieri c'è arrivato un altro decreto ingiuntivo, penso a delle tessere autostradali che prendevano i soldi, non hanno mai pagato, adesso ci arriva dalla società autostrada un decreto ingiuntivo 300 milioni perché da 2008 non gli pagano le tessere autostradali che viceversa prendevano, il decreto ingiuntivo 900 mila Euro dall'Edison perché non hanno pagato la corrente, adesso ci arriva il decreto ingiuntivo 3 milioni e mezzo dalla Mad che è quella che gestisce 3 milioni e mezzo o 7 miliardi di vecchie lire perché purtroppo il Comune sono anni che non paga chi gestisce la discarica e ci stanno arrivando decreti ingiuntivi da tutti, di chi è comodo al cambio, da chi deve prendere i soldi dell'olio, ormai i decreti ingiuntivi arrivano a balanga tutti i giorni, è chiaro che io che cosa ho fatto? Potendo mandare liquidazione alla società e però licenziando tutti i dipendenti ho detto diamoci 120 giorni, presento un piano industriale, tagliamo da qualche parte, mandiamo in pensione chi deve andare in pensione, chiamiamo chi oggi prende molti soldi e molti privilegi abbassiamoli, chiameremo ogni dipendente dicendo vabbè tu sei settimo, sesto, vuoi scendere, vuoi limitare un po' del tuo stipendio per risparmiare oppure no, se no c'è la prospettiva del licenziamento, non possiamo fare qualcosa e poi c'è quella che dice l'ex sindaco vendete la società e certo sono capaci tutti a vendere, se la vendiamo chi se la compra una società con 34 milioni di buffi, la compreresti tu? No, certo che non c'è chi se la compra, se la dovremmo vendere un pezzo a rami di azienda lasciando perdere le farmacie che ci si può guadagnare e vendendo forse la città pulita, mandando in liquidazione HCS, trasformando civile di infrastrutture che diventa la vera holding perché è capitalizzata e quindi ha possibilità di accedere a linee di credito che ci sarebbero a questo punto perché c'è il capitale che sarebbe da garanzia e fatta questa operazione noi pensiamo di poter ridurre la perdita non più a 6 milioni e 6 come adesso, ma forse a 2, a 3 milioni di Euro, se ci riusciamo in questi 4 mesi che sarà duro, un lavoro duro, allora ci ripresenteremo al Tribunale e diciamo non perdiamo più 6 milioni e 6, il debito una parte lo abbiamo allungato, ci siamo messi d'accordo, ieri è venuto unicredit e ha detto no dobbiamo prendere un milione e 3, quando ce le date? E ha detto noi non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo un milione e 3 da perdere, però possiamo dirvi che se ci mettiamo d'accordo in 2 o 3 anni noi questi soldi ve li diamo, allora ricontrattando i debiti con tutti i creditori che ci stanno curfiato sul collo, presentiamo al Tribunale questo piano industriale, se il piano industriale che ripeto è molto più articolato di quello che vi dico, io l'ho semplificato, ma le procedure, l'ingegneria finanziaria che ci siamo inventati è molto articolata, dopodiché se ci diranno sì va bene, allora noi saremo autorizzati a continuare a gestire HCS, la mandiamo piano piano a morire, facciamo viceversa la sostituzione con ci viecchi infrastrutture che diventerà la vera holding, non gestirà più niente, togliamo la gestione da HCS perché doveva essere la sola holding che invece gestisce l'acquedotto, gestisse cose che non dovrebbe gestire, se voi pensate che l'acquedotto nostro ha 6 gestori, 6, abbiamo il SIT, Medio di Reno, il Mignone che era il Mignone HCS, abbiamo l'Oriolo, abbiamo la CEA e abbiamo il comune, noi abbiamo 6 gestori, trovate mai un comune se voi girate tutto il mondo che per gestire un'acquedotto comunale c'è 6 padroni, 6 padroni ci abbiamo, cosa assurda questa, allora noi adesso stiamo rimettendo insieme tutto, cercando di fare un'azienda speciale unica per l'acqua, che è un'azienda che se condotta con criteri econometrici sicuramente non andrà in perdita, addirittura andrà in guadagno, perché abbiamo ad esempio l'Oriolo che manda acqua senza spendere una linea di energia elettrica, addirittura noi spendiamo 700 mila Euro per mandare acqua per le pompe, quando potremmo fare il fotovoltaico, quando potremmo fare addirittura, c'è un progetto con una girante, quindi una turbina che potrebbe produrre solo con la caduta dell'acqua che viene in discesa, potremmo produrre energia elettrica, quindi non spendere più 700 mila Euro, ma probabilmente con i fondi dell'Ener, che aveva detto che avrebbe investito sul fotovoltaico e non ha investito una lira, bisognerà obbligarla a investire lì, allora facciamoci fare un impianto fotovoltaico dall'Ener, per il quale sarà impegnato in convenzione a farlo e non l'ha fatto, forse qualcuno ci dovrebbe dire perché non l'ha fatto, noi risparmieremo almeno 700 mila Euro all'anno e se lo avesse fatto avrebbe risparmiato i 900 mila Euro che ci ha chiesto adesso Edison con decreto ingiuntivo, vedi quante cose si potrebbero fare nell'ambito risparmio, dopo tutta questa operazione, se, ripeto se, perché io ho i miei dubbi che ci riusciamo, perché non è un'operazione facile, è molto complicata perché non ci sono i soldi, perché purtroppo si perde troppo, troppa gente è lì, ma se voi pensate che complessivamente abbiamo 1000 dipendenti, un comune come il nostro ce ne può avere 380, abbiamo quasi 700 dipendenti in più, ma se voi pensate a città pulita, città pulita, ci sono 220 persone, vuoi sapere quanti puliscono la città? 14, su 28 zone della città 14 puliscono la città, quell'altro che stanno a fare? Preposti, coordinatori, impiegati, capi, capetti, livelli altissimi, poi quei poveracci che puliscono la città, che sono poveracci, guadagno 700-800 Euro al mese. Tra l'altro operai di città pulita che hai incontrato recentemente per far vedere un filmato della città. Eh certo, gli ho detto quanti siete, mi risponde il Saia quello che era il capo, pezzotti, 14, ma come siete 220? Questo è il quadro. Le spazzatrici rotti, manco più le scope, non c'erano manco più le scope, i camion, i compattatori sono rotti, i pulma, pensa, i pulma sono quelli che ha comprato l'amministrazione di Dei, che hanno fatto 800 mila chilometri, 800 mila chilometri, cioè 20 volte il giro del mondo, 20 volte il giro del mondo, 800 mila chilometri. Io credo che forse un pulma si dovrà acquistare. Come mai la domanda, in 13 anni non è stato acquistato un pulma? Un pulma, in Ceresi si rinnova dopo 3-4 anni, c'è l'ISing che dopo 5 anni si rinnova. 13 anni e gli ultimi pulma sono quelli che ha acquistato l'amministrazione di Dei. E queste saranno le cose che diremo portando le carte in Consiglio Comunale. Ecco, parlando di HCS e del Comune, ha detto che il nostro Comune è l'unico dove l'acqua viene gestita da 6 gestori diversi. Parlando sempre di acqua, ha parlato anche di risparmi se tutto venisse ricondotto ad un unico gestore. Però più che altro in questi giorni i cittadini, anziché parlare di denaro collegato all'acqua, vorrebbero sapere quando l'acqua finalmente potrà tornare potabile. Forse questa domanda l'avrebbero dovuta rivolgere a chi ci ha preceduto, perché come funziona l'acquedotto del Mignone? L'acquedotto del Mignone ha un bacino idrico, questo bacino idrico era profondo 8 metri mi sembra, da dove si accumulava l'acqua e veniva dal Mignone. Che cosa succede? Che o con le giornate di piena, quindi quando il fosso va e porta il fango, i detriti, o nelle giornate in cui non funziona il depuratore di Veiano o di Canale Monterano che sboccano sul nostro bacino, allora se tu hai un bacino profondo 8 metri, probabilmente uno sversamento non incide niente, ma se il bacino nel corso di 10 anni che non è ripolito e bonificato, da 8 metri è diventato un metro, perché adesso c'è un metro d'acqua lì dentro, è evidente che qualsiasi cosa ci mette dentro inquina l'acqua, perché l'acqua è 8 volte di meno quella che era prima. Allora che cosa si sarebbe dovuto fare? La cosa molto semplice era ripolire ogni 4-5 anni quel bacino, perché ovviamente a furia di portare acqua insieme all'acqua va nei detriti, ci va la ghiaia, ci vanno i sassi, ci va la terra, questa se tu non la togli cresce sempre e sottrae il spazio all'acqua, quindi adesso noi di acqua abbiamo sino un metro, è evidente che qualsiasi cosa va lì dentro che è inquinato, basta anche una carcassa d'animale morto per inquinare quell'acqua. L'alluminio, perché c'è per abbattere gli inquinanti e per eliminare il fango che c'è nel bacino, per farlo precipitare, si mette l'ipocloruro di alluminio. L'ipocloruro di alluminio ovviamente se si mette, ripeto, su una quantità tanta di acqua è in conto, ma se tu la metti in una quantità di un metro di acqua sicuramente poi lascia i residui di alluminio, allora quando va alla fontanella a prendere l'acqua per campionarla ci sono i residui di alluminio, perché è stato usato l'ipocloruro di alluminio. Che cosa diciamo noi, che cosa ho detto insieme a Mecosi? Chiudiamo adesso l'acqua del Mignone, acquistiamo l'acqua della CEA che ci costa, perché l'acqua della CEA costa di più di quello del Mignone e però rendiamo l'acqua più pulita. La cosa strana comunque però, lo voglio dire perché io con l'ASLA adesso pure qui dovremo denunciarlo alla procura questa differenza. Due campionature di acqua che noi facciamo da istituti privati e da università pubbliche ci danno che l'acqua è buona, quella della CEA che la prende da una fontanella vecchia, lì a via termedagliana e da un'altra parte dove la fontanella stessa è tutta sgarrupata, l'acqua dà leggeri valori di alluminio. Allora io voglio sapere chi è che dice la verità, noi abbiamo due istituti che ci dicono che l'acqua è buona, l'ASLA ci dice che non è potabile, io adesso ho chiesto già un incontro perché voglio verificare assolutamente come stanno le cose, perché se due istituti mi dicono pubblici che l'acqua è buona, per quale motivo l'ASLA mi dice che non vorremmo anche qui che si palesasse come qualche volta accade qualche elemento di piccolo sabotaggio, di piccolo rispetto. Io credo di no perché ho piena fiducia negli operatori dell'ASLA, però a questo punto le campionature dobbiamo farle insieme e soprattutto nei luoghi in cui diciamo. E proprio per risolvere questo problema mi sembra sia stata interpellata anche l'Università della Tuscia. E certo, abbiamo chiesto all'Università della Tuscia che cosa ci dice anche perché le nostre campionature ci dicono che l'acqua è potabile. Comunque al di là di questo come si risolve il problema? Il problema si risolve non tanto questo, che noi a giugno, e questo lavoro non si può fare dell'inverno, a giugno dovremo ripulire questo, ma ci vorrà un milione di euro, dovremmo ripulire tutto il bacino, riportarlo alla profondità di 8 metri, rimetterci sopra la ghiaia e dopo di che avremo un bacino di acqua tale e tanta che anche uno sversamento o un piccolo inquinamento probabilmente non provocherà quei danni che oggi ci sono. Comunque io ho detto all'assessore Mecozzi di chiudere il mignone per ora, aprire con più acqua alla CEA e portare acqua pulita in modo tale che i cittadini possano bere acqua pulita. Ma vorrei rispondere a una certa signora Bartolini che stamattina parlava, parlava che lei sta pagando l'acqua del 2010, forse doveva chiederlo a singleton con lo precedente l'acqua del 2010 perché la bolletta che sta pagando è quella del 2010, per quale motivo doveva pagare quella bolletta quando l'acqua era inquinata. Bene, io la ringrazio tantissimo per essere stato con noi, il tempo a nostra disposizione è terminato, ringrazio anche i nostri telespettatori e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie. 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 Grazie.